Oggi, beh, ciao! Senti, visto che è periodo di Natale volevo fare un regalo a Milenkovic e Pezzella della Fiorentina, che venerdì sera proprio non ci sono riusciti. Ecco, questa è la maglia di Zeko, se volete, tanti auguri di Buon Natale! Come direbbe il mischietta, donnamo dominamo e la Roma a Firenze ne fa po' l'altro! Da quando Smalling e Mancini sono la coppia centrale difensiva titolare, la Roma prende pochissimi gol. Quando Lorenzo Pellegrini gioca titolare ed è sano, invece ne facciamo tantissimi. E poi c'è Zeko che impartisce lezioni al suo diretto avversario di turno e poi protesta con il sorriso con l'arbitro, sintomo di tranquillità che la partita sta lì, è solo da prendere e da vincere. E poi Florenzi che gioca titolare, nessuno rompe più. Ma la cosa più importante la dice Fonseca, ancora non abbiamo fatto nulla. Che dire ragazzi, vittoria veramente convincente, mamma mia, il mister si è presentato con la scopolletta, tanta 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 roba ragazzi, ma d'altronde è l'eleganza, è l'eleganza e si vede poi anche in campo. Comunque avevamo un conto in sospeso con questi ragazzotti, i sette non ne avevamo rifatti, però quattro si sono portati a casa e passeremo tutti un bel Natale. Quindi ragazzi, buon Natale al popolo giallorosso e forza magica Roma, taglie! Ci vediamo il prossimo anno, buon fine 2019, vieni con me perché insieme a Babbo Natale gli facciamo gli auguri di appunto buon Natale e forza Roma! Grazie! Grazie!